Amore mio, ho scoperto cosa fosse l'amore quando entrasti nella mia vita, da quando il tuo sorriso ha iniziato a riempire le mie giornate. Sono davvero un uomo fortunato ad aver conosciuto te, una ragazza dolce, solare, simpatica, bella come nessun'altra donna. Se mi guardo indietro riaffiorano i ricordi sulle scalette di via Canterno, dove ti chiedevo sempre la stessa cosa, che stupido, non mi rendevo conto di cosa mi stavo perdendo, però il destino non ti molla e davanti a quel computer il mio cuore si fermò alla vista di una tua foto. Eri, lo sei, bellissima e da quel momento decisi che dovevi essere mia, la mia principessa, ti dovevo conquistare in qualsiasi modo. Ne abbiamo passate tante, ma nel vassa la pena abbiamo lottato per questo nostro amore. Con alti e bassi ci siamo costruiti un futuro, soffrendo insieme e gioiendo di più, per tutti i risultati raggiunti, i passi avanti fatti verso un futuro migliore, insieme. Domani, il 27 maggio 2017, dovrebbe essere l'arrivo di questo futuro immaginato. Invece sarà l'inizio del nostro viaggio che durerà per sempre. Non ti prometto nulla, le promesse sono fatte per non essere mantenute, ma ogni giorno ti dimostrerò il mio amore, per te, e ti farò capire quanto sei importante nella mia vita. Ti amo, mia dolcissima creatura, Arcangelo. Grazie a tutti.